Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di audio sia per il pc fisso che per i portatari se invece avete problemi proprio ad ascoltare anche questo video cioè ci sono i sottotitoli quindi potete leggere i sottotitoli da come sto parlando quindi ovviamente per risolvere questi problemi dal fisso è molto semplice perché alcune volte installiamo e colleghiamo alcuni dispositivi al nostro pc come ad esempio le cuffie e le casse invece sui portatili può essere a causa di un danno all'interno del portatile oppure qualche driver è obsoleto quindi bisogna aggiornarlo quindi in questo nuovo video, una nuova guida vi spiego come risolvere i problemi dell'audio del pc un anno fa ho fatto una guida su come risolvere questi problemi, riaggiorniamo così la guida con dei nuovi metodi andiamo prima sul sistema quindi su windows sistema eccolo qua, un attimo che scendo fino al sistema, eccoci qua questo qua, su questa interfaccia sistema cliccate più volte sul sistema finché non esce questo pannello, questa scheda così risoluzione problemi su altri strumenti di problemi andiamo a mettere, allora qui ci farà una verifica per vedere che tipo di problema abbiamo sul pc quindi facciamo esegui rilevamento dei problemi scegliamo il nostro dispositivo ovviamente io ho tantissimi dispositivi audio attaccati al pc quindi ho anche quello dello schermo io adesso vado a fare un controllo sull'audio che uso sempre quindi altoparlanti high definition audio questo qua avanti si apre il miglioramento di audio su caratteristiche avanzate qui mettete disabilita tutte le caratteristiche avanzate fate applica poi su formato predefinito selezionare la frequenza di campionamento e la profondità in bit da utilizzare in soluzione in modalità condivisa mettiamo 16 bit 48000 Hz ecco che l'audio si sente quindi facciamo ok applica la correzione se in questo caso al posto di questo pallino verde c'è un triangolo giallo quindi qua dobbiamo aggiornare i driver del dispositivo il problema è stato risolto? si faccio chiudi a me non da nessun problema di audio quindi faccio chiudi chiudo qua vado di nuovo qua sopra gestione dispositivi oppure scrivete qua sopra gestione dispositivi dove c'è input e output audio quindi faccio un esempio se tu prendi delle casse e le colleghi dove sta la porta jack della scheda madre dietro al fisso quindi sul pc fisso e non si collega che significa che poi c'è un triangolino giallo vicino a questo dispositivo che non funziona quindi non funziona correttamente oppure è obsoleto facciamo fin da che questo è il problema aggiorna driver aggiorna driver cerca automaticamente i driver cerca i driver aggiornati in windows update verifica disponibilità aggiornamenti vediamo se dobbiamo fare qualche aggiornamento e non devo fare nessun aggiornamento quindi chiudo qua se non dovesse funzionare questo metodo fate disinstalla dispositivo e reinstallate il dispositivo e riavviate il pc sia il fisso che il portatile chiudiamo qua ora per altri problemi se non dovessero funzionare questi altri metodi in descrizione vi ho lasciato due link per scaricarvi dei driver per aggiornare i driver per l'audio quindi i dispositivi di audio andiamo su chrome ok i driver audio realtech e amd sia per intel che amd e voi installate i driver più aggiornati eccoli qua io ho high definition audio device quindi eccolo qua high definition audio device perchè ho la scheda madre amd per quelli invece che hanno intel c'è direttamente un download disponibile qua e scaricate tutti i driver che vi servono per aggiustare così il dispositivo audio del vostro pc quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto e spero tanto che questi errori si siano risolti grazie a tutti questi passaggi sia nell'aggiornare dispositivi audio che scaricare nuovi driver per sostituire quelli obsoleti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao